Come sapete sono stato colui che si è battuto più di tutti gli altri per fare un carnevale ad ingresso libero. Perché il carnevale è una festa del popolo, una festa che il popolo dà a se stesso. Non ci può intervenire quello, quell'altro, eccetera. E d'altro verso però noi siamo un paese civile, siamo persone civilissime che per quanto riguarda la sicurezza è il primo posto. Gli americani dicono first, safety, prima cosa la sicurezza. E io sono d'accordo con loro, non posso non esserlo. Nel stesso tempo vedere questa presenza massiccia di forze dell'ordine, eccetera, e dice ma che c'è il Presidente degli Stati Uniti. Ma la soluzione mi pare che sia stata trovata. Quando negli anni 50 il carnevale passò da Corso Matteotti ai Viali, furono tutti molto contenti. All'inizio dice ma no, è troppo grosso, la sciaperda. No, no, e invece adesso scopriamo che è piccolo. E la soluzione mi pare che sia evidente nella necessità di farlo più largo, più grande, allargarsi e innalzarsi. Ci sono tuttavia delle rimembranze, è libera, non c'è una persona. La zona fino alla stazione ugualmente. E a quel punto, siccome le forze dell'ordine fanno un rapporto tot spazio, tot persone, credo che dovremmo essere già a buon punto.